Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Lori. A-S-M-R. Allora, come state? Spero che stiate molto, molto, molto bene, molto, molto bene. Oggi sono tornato qua col mio caro e vecchio amato blu, 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 blu. Ieti. Era da una vita che non usavo questo microfono e infatti mi ero completamente dimenticato quale fosse il davanti, quale fosse il dietro, come si usasse. Però vabbè, alla fine ce l'ho fatta, ecco. E niente, ho usato il blu, ieti oggi perché non lo usavo da tanto e tra l'altro sentendomi mi piace veramente tanto il suono che produce. Quindi penso che loro incomincerò ad utilizzare più spesso. E diciamo che devo nascondere il mio computer dentro l'armadio perché la ventola del mio pc fa un rumore assurdo. Comunque, oggi sono qua con il blu, ieti. Perché? Perché vorrei fare un video mic scratching, 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 scratching. E ho deciso di alzare il microfono e illuminarlo perché voglio che sia il protagonista del video. E quindi niente, era da una vita che non facevo del mic scratching, anzi, probabilmente da mai, forse. E quindi lo volevo fare. E magari porto anche un video brushing con questo microfono, se vi può piacere fatemelo sapere. Perché tra l'altro oggi erano deciso se portare un video brushing oppure un video mic scratching. Ma bando alle ciance. E cominciamo. Seguendo papa. Al Maislli baffoglio. Questa stagione. Al Maislli baffoli è spettata lak parata lak西mo. E questo parte stagione di Princeiglio. Seguendoộdare il cuore m sensitive, alle luog e le luog. è stato con un psicologico. Ho spirituale. Ho specialito. Presso di oggi riprolla. Moltissimo bollCL alacamico epieceslo. Bene, erano sic Tamb在 rumore alle catenze Стagioni eutero di software. Seguendo qui mi sono scelta vello nas suitore il應 senza risposta e stabito, T mitti sono università. Pasti che lasciam cori in nessuna t�la seguita sono 후보 il mondiale Farò prima un po' di make scratching con le dita, con i polpastrelli che probabilmente sono un po' più delicato, e poi dopo utilizzerò le gravette, e poi dopo utilizzerò quell'altro oggetto che forse è un grattaschiena, e penso che sarà nella copertina del viti, ma sapete che il Blue Yeti probabilmente è il mio microfono preferito. Fa un suono troppo, 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 troppo rilassante. E poi c'è questo qua proprio bello da vedere, cavolo, anche con questi colori. Giuro che dopo questo video lo smetto con il verde, i miei ultimi video sono tutti verdi. Ah, vorrei ringraziare anche un ragazzo che mi ha fatto una donazione su PayPal, dal canale, e si chiama Amedeo. Amedeo, Amedeo. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scratch Sì Ragazzi, passerai alle croffette. Alla prossima. A usare questo microfono, e dopo così tanto tempo, mi sento come quando lo uso per la prima volta. Ero così felice quando mi è arrivato questo microfono. Oh no, che caduta di stile, ragazzi, al posto di fargli alternatina messi due verdi adiacenti. Ma a toglierli e a rimetterli ci metto una vita, quindi spero possiate tollerare questa cosa. Grazie. 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 scratch 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 Scriviti La mia situazione capelli sta diventando ingestibile. Secondo voi dovrei rasarli, non a zero, tipo lasciarli, tipo così, due millimetri insomma. Perché mi piacerebbe farlo. Forse lo farò, chi lo sa. Scriviti Scricch 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 E adesso ragazzi passerei all'ultimo oggetto con cui fare Ok, let me scratch Oh my god, scratch 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 Alla prossima. 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 Dovrei leggere di più, però non mi fa impazzire leggere. Cioè, ho letto pochi libri nella mia vita. Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Noi siamo infinito. Il giovane olden. E la solitudine dei numeri primi. Tutti libri molto comunque felici, devo dire. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Io nel frattempo mi sto ipnotizzando a guardare questo oggetto. Noi ragazzi. direi che per oggi, per oggi, per oggi, per oggi, per oggi, per oggi il video si conclude qua. Spero... Spero... Tanto... Spero tanto, 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 tanto che il video vi sia piaciuto. Che vi siate rilassati, rilassati. Fatemi sapere se vi piacerebbe un video brushing con il Blue Yeti. Oppure... Fatemi sapere se comunque vi piacerebbe che utilizzassi più spesso il Blue Yeti. E niente ragazzi. Buonanotte. O buon riposo. Buonanotte. O buon riposo. Buonanotte. 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 Grazie.